Nel corso di formazione dedicato ai social network e alla didattica vedremo essenzialmente cosa sono i social network didattici. Innanzitutto sono dei siti web, un po' come Facebook per esempio Twitter, che permettono la condivisione non solo dei profili ma anche dei materiali, i materiali didattici. Consentono quindi anche degli approcci diversi al sapere perché recuperano tramite i link a risorse esterne, per esempio risorse presenti su internet, tutta una serie di saperi informali o che comunque non risiedono strettamente nei libri di testo in adozione. Quindi consentono di fare ordine in quell'insieme di risorse, a volte molto utili, che stanno al di fuori dei materiali ufficiali. E poi sono anche un modo per ordinare tutta quella massa di informazioni che spesso diamo ai ragazzi sotto forma di documenti PDF o siti web e che rischiano dopo qualche mese di lavoro di essere piuttosto caotici e disordinati e non risiedere in nessuno spazio preciso, ma talora in una pendrive, talora nella mail, talora in un computer della scuola e quindi in modo piuttosto disordinato. Social network in questo senso danno ordine a questa massa, a questo flusso di informazioni e materiali che ormai più o meno quotidianamente usiamo con i nostri studenti. Come usare i social didattici a scuola? Innanzitutto occorre un normalissimo account, quindi un'iscrizione a questi social che sono pressoché tutti gratuiti. occorre poi avviare una profilatura dei propri studenti, oltre che del proprio account. Poi si inizia subito a condividere, oltre che i profili, quello che Facebook chiama amicizia, ma soprattutto dei materiali, materiali didattici, materiali che normalmente usiamo con i ragazzi. Questi consentono quindi una comunicazione orizzontale e verticale. Orizzontale si intende a dire tra pari, quindi collega-collega, e anche verticale, dove si intende naturalmente una comunicazione tra alunno e insegnante. Consentono anche i social network la cosiddetta cura dei contenuti, quella che il mondo anglosassone chiama content curation, che è un ambito estremamente importante della non solo didattica 2.0, ma oggi anche di alcuni aspetti della rete. E consiste appunto in quelle pratiche grazie alle quali noi ordiniamo, quindi non produciamo, ma ordiniamo i contenuti che troviamo in rete, che in molti casi rischiano di essere piuttosto disordinati e rischiano di appartenere qua e là a tanti siti e non essere mai in qualche modo razionalizzati all'interno di uno spazio. Quindi social network didattici aprono anche questa prospettiva della cura dei contenuti. I vantaggi sono numerosi, per esempio i social network per loro natura tendono a essere maggiormente seguiti dai ragazzi perché sono piuttosto abituati all'uso di social network naturalmente personali e non didattici. Hanno il merito appunto di ordinare i nostri materiali e quindi anche documentare cronologicamente la nostra attività. Consentono una comunicazione più efficace con le nuove generazioni, non quindi una comunicazione in assoluto più efficace, ma più efficace con i ragazzi che oggi possono avere 12, 15, fino a 18 anni, che sono per l'appunto abituati a usare questi strumenti per la loro comunicazione. E poi un vantaggio non secondario ci consentono di tenere separato il mondo professionale da quello privato e in tal modo eviteremo di usare per esempio account Twitter, Facebook o altro che sono nostri personali dove in qualche modo ci sono dati, informazioni, fotografie, video della nostra vita privata che non ci interessa condividere in un ambito professionale. Cosa impareremo in questo corso? Innanzitutto usare questi siti, questi social network per essenzialmente la condivisione. Impareremo anche però a reperire e riusare i materiali presenti online perché un obiettivo è anche proprio quello di fare ordine tramite questi social a quella massa di informazioni che noi quotidianamente maneggiamo e condividiamo con gli studenti. Questi social ci consentiranno anche di comunicare in modo più rapido, piuttosto rapido, tra noi e tra colleghi e magari insegnanti e alunni. Vediamo quindi anche cosa è necessario. È necessaria naturalmente una connessione a internet, in questo caso non è possibile farne a meno. Un browser che sia di un pc, di uno smartphone o di un tablet è indifferente, anche se indubbiamente l'uso di un pc rende tutto più agevole. L'uso di uno smartphone o di un tablet rende tutto più rapido solo in alcuni casi, nell'ambito delle notifiche per esempio, ma nella produzione dei contenuti ancora possiamo dire che smartphone e tablet sono ancora piuttosto faraginosi nell'uso di costruzione di contenuti piuttosto complessi. E poi naturalmente un account che possiamo creare insieme o possiamo aver già creato. Gli strumenti online che vedremo principalmente sono Edmodo, che è forse uno dei più noti social network usati in ambito didattico. Poi siti come scoop.it che serve proprio per la cura dei contenuti. Pinterest che è invece un social network tradizionale, soprattutto utilizzato per le immagini, ma che può avere con qualche accortezza anche una importante valenza didattica. Peraltro ha il vantaggio di essere molto noto anche presso gli adolescenti. Poi vedremo anche altri tool come per esempio Medium, che nasce come costola di Twitter. È un modo di fare blogging sociale. E Rebel Mouse, che è un sito molto utile che ha il vantaggio di accorpare in un'unica pagina tutti i nostri social network. Quindi nell'ipotesi che noi si abbia un account Facebook, Twitter o molti altri, Rebel Mouse, una volta scritte le credenziali di accesso, riassume in un'unica pagina tutti i nostri contenuti presenti nei social. Quindi per chi ci segue è un modo estremamente più semplice di tenere presente il flusso di informazioni che transita per i nostri social. Per questo corso sono necessarie 6-9 ore e per un numero di incontri che varia da 3 a 4.